La Fiocchi Munizioni si appresta a cambiare proprietà. La clamorosa notizia rimbalza da Roma, dove il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'operazione di cessione della totalità delle quote azionarie della storica azienda lecchese senza esercitare il Golden Power, un vero e proprio potere di veto che il Governo può far scattare in presenza di imprese di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, come appunto la Fiocchi, tra i leader mondiali nella produzione e commercializzazione di munizioni e in Italia, principale fornitore di esercito e forze dell'ordine. Le quote, si apprende, saranno acquisite dalla costituenda società Holtco, controllata da Charm Capital Partners, fondo di investimento appartenente alla famiglia di Luca di Montezemolo. Fondata nel 1876, Fiocchi Munizioni attualmente dà lavoro a 670 dipendenti. Tengo a precisare che anzitutto l'operazione ancora in atto, ha dichiarato il Presidente Stefano Fiocchi, non si tratta di una smobilitazione perché la holding di famiglia terra comunque una quota importante del pacchetto azionario. Sempre il Presidente precisa che a fronte della volontà di quotarsi in borsa, l'eccessiva frammentazione della compagine societaria, ha spinto alla scelta di un partner che possa accompagnare verso un maggior consolidamento. La notizia ha colto letteralmente di sorprese dipendenti dello stabilimento di Belledo, che hanno appreso dei radicali cambiamenti all'orizzonte da un avviso affisso stamani in Bacheca, fa sapere Mauro Castelli della FIOM CGL di Lecco. Alla fine della comunicazione, prosegue il sindacalista, Stefano Fiocchi si rivolge direttamente ai lavoratori scrivendo, conto su di voi, vi terrò informati sugli eventuali sviluppi. Nel merito della cessione, prima di pronunciarmi, attendo l'incontro che abbiamo chiesto con la massima urgenza alla proprietà e che si terrà quasi certamente venerdì pomeriggio, conclude Castelli. Quanto al metodo con cui è stato informato il personale è a dir poco approssimativo. Siamo ovviamente tutti preoccupatissimi per le ricadute che il cambio dell'azionista di maggioranza potrebbe avere sui livelli occupazionali.